Spiegazione teologica del Catechismo di San Pio X di padre Carlo Tommaso Dragone Parte prima 10. Dio può far tutto? Dio può far tutto ciò che vuole. Egli è l'Onnipotente. 10. Gesù, come Dio, può fare tutto quello che vuole e compiere qualsiasi prodigio, perché è Onnipotente. 11. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti dal 40 al 43 I re della Terra possono fare molte cose impossibili per noi, però sono infinitamente di più quelle che non possono fare di quelle che sono il loro potere. 12. L'uomo è tanto limitato nel suo potere che nulla può contro molte malattie, nulla può contro la morte che continuamente gli insidia la vita, nulla può contro i cataclismi della natura, i temporali e i terremoti. 13. Dio solo è Onnipotente e può fare tutto quello che vuole. 14. Solo non può fare ciò che non può volere. 15. Dio non può volere, ad esempio, non esistere, non essere perfetto, santo, giusto, perché è assurdo che Egli non sia giusto, che non sia santo, è perfetto. 15. Dio non può volere le cose assurde, appunto perché sono assurde, vale a dire contraddittorie nei termini. 16. Se Dio potesse volere l'assurdo, non sarebbe più Dio e non sarebbe perciò stesso Onnipotente. 17. Dio, come essere infinitamente perfetto, possiede la perfezione dell'Onnipotenza, la quale si identifica con la sua infinita volontà. 17. Nel credo, noi esprimiamo chiaramente la nostra fede nell'Onnipotenza Divina. 17. Credo in Dio Onnipotente. 18. Lo Spirito Santo, nella Sacra Scrittura, parla ripetutamente ed esplicitamente della Divina Onnipotenza. 18. Vi è forse qualcosa di difficile per il Dio? 18. Genesi 18, 14 Egli ha parlato e le cose sono state fatte, ha comandato e le cose sono state create. 19. Salmo 33, 9 Riflessione Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi esalti nel tempo della sua visita. 1 Pietro 5, 6 Riconoscere la infinita potenza di Dio e starcene umili e confidenti alla sua presenza è il sentimento che scaturisce genuino in noi alla considerazione dell'Onnipotenza di Dio. Esempi 1. Gesù caccia i demoni dagli ossessi 2. La creazione e opera dell'Onnipotenza di Dio Genesi 1, 1, 13 Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria